dopo la raccolta del grano in questo caso l'azienda aveva seminato del tritordium stiamo stiamo provvedendo a una semina di una pianta miglioratrice l'azienda in questo momento sta seminando la soia che è una leguminosa quindi dopo un percorso di coltivazione di un grano quindi una pianta depauperante viene introdotta quelle che sono invece le piante miglioratrici cioè piante che producono azoto grazie ai risobbio che cattura l'azoto dell'aria e lo trasforma poi per lasciare nei residui culturali quindi una corretta coltivazione dove a seguire di una pianta che assorbe azoto diamo una pianta che poi cede azoto al terreno in maniera molto naturale grazie